Musica Novarki, allora si va in profondità, stanare l'avversario, Sana Fernandez lascia scorrere, la tiene in campo, magia, a tunnel, ancora di Sana Fernandez, entra in area, calcio, è un gol di Sana Fernandez che fa 2-0. Se l'è meritato, se l'è conquistato, ha concluso nei migliori di modi, intelligente la Lazio a costruire dal basso, a cercare profondità, bellissimo gol, 2-0 Lazio. Il primo traguardo dell'incenderata di Sana Fernandez lungolinea, può girarsi, puntare l'avversario, in bucata per Greschi, un po' non è scomodo, ma Sana Fernandez lo recupera a calcio, Sana Fernandez blocca, Buona cura, che con i suoi quinti di centrocampo, il Bedini va a recuperare il pallone, poi attenzione, a Colistra, velocità il 10, riesce a restare anche in campo in equilibrio. Ancora Sana Fernandez, se le finte, andare al traversone, tagliato, dentro l'area, e la Lazio la sblocca subito. La regina, guardate quanti uomini della Lazio, bravo Sana Fernandez, si recupera, Sana Fernandez questa volta non sbaglia, 2-0 per la Lazio. Ancora Sana Fernandez, il Fersinio lo esatta, e segna ancora. Segna ancora, sfrutta un errore, è stato abile a leggere questa linea di passaggio, ha controllato, qui è stato freddo sotto porta, 2-0 Lazio. Troppo sotto ritmo la Lazio, vediamo se inventa qualcosa, Bertini per Sana Fernandez, in trenaria, ancora Sana Fernandez. Parata del portiere, prima vera occasione per la Lazio. La Lazio torna avanti, va a servire Floriani e Mussolini, e può ripartire la Lazio. Alom, prova a passare, scarico su Bertini, zona tiro, Sana Fernandez controlla, ancora Sana Fernandez, 3-0. Gioco, partita incontro. Sì, gioca partita incontro, Luca, qui bisogna vitenziare la qualità di Gonzales e la qualità di Marco Bertini, che deve mettere lo smarcamento di Sana Fernandez. Tensa, Diego Gonzales con l'esterno verso Sana Fernandez, che sale, entra in trenaria, palla dentro per Crespi, tutto facile. Tutto facile per la Lazio, 4-0 e firma indelebile di Crespi. Attenzione a Gonzales in zona, deve risolvere problemi ballanti che all'oltana, ma insiste ancora la Lazio. Sana Fernandez dalla distanza, risposta di Moschia l'arbitro. Rincorsa, prova a calciare, il pallone che forse viene toccato dal portiere, sì, sarà calcio d'ambi, si era primo, la Lazio ottava. Pensate un po', ha cambiato il mondo. Sana Fernandez, zona tiro, calcia, trozza però, va a conclusione. Slalom, palla dentro per Crespi, poi Sana Fernandez! Ed è 1-0 per la Lazio, al trentacinquesimo, la sblocca, Sana Fernandez! Che bella palla, Sana Fernandez che accelera, ancora Sana Fernandez, aspetta rinforzi. Ancora Sana, entra in aria, palla dentro per Crespi! 2-0 Lazio! Risulta così, Crespi, ancora la Lazio, Crespi, fa viaggiare lungo linea Napoli. Settesimo, traversone morbido, secondo palo, la sfonda di Gonzales, prova la rovesciata! Sana Fernandez, poi il gol di Napolitano che è regolare! Lazio 1! Un gesto tecnico e acrobatico di Sana Fernandez, quando Napolitano ha insaccato sulla seconda palla, bene la Lazio, Lazio in mantana. Maso con l'esterno, verso Sana Fernandez, la posizione è regolare. Dentro c'è Gonzales, fa Sana Fernandez, calcio! Di Tommaso, verso Gonzales, pallone buono per Sana Fernandez, che entra in aria, ancora Sana Fernandez, cerca la conclusione! Sfortunato con il 7 della Lazio, l'occasione più chiunta della partita! Tanto giocata ancora elegante di Sana Fernandez, fa tutto da solo, balde, controllo. 6-7 in aria di rigore. Fernandez, la solta va più in alto, il pallone resta lì, due volte! Non è arrivato! Andare al traversone, lascia scorrere Bertini, Sana Fernandez, zona tiro, calcia sul fondo. Sana Fernandez si mette in proprio, vediamo se metta qualcosa, Gonzales riceve, tre quarti campo, non è per balde, zona tiro, quindi Di Tommaso entra in aria, calcio a Di Tommaso! Sana Fernandez fa 2-0 per la Lazio. Fiammata, fiammata di Sana, ma soprattutto di Tommaso che ha fatto un assist con i piedi deboli con il destro e Sana l'ha messa dentro nel momento più importante della partita, il 65esimo, 2-0 Lazio. È un 2023 super per Sana Fernandez con la sua settima perla in campionato, anche se il gol è stato facile e facile.